Procedura ad hoc questa mattina l'annunziata per il ricovero di un paziente covid nell'unica stanza a pressione negativa dell'ospedale di Sulmona. Torna quindi il covid l'annunziata, seppur nell'apposito spazio della terapia intensiva. Si tratta di un paziente proveniente da Vezzano. Dalle 11.30 alle 12.30 circa l'ingresso della Lavecchia è rimasto bloccato per la decisione dei vertici aziendali che hanno voluto creare un percorso ad hoc proprio nella zona dove transita l'utenza. Un dato quindi da rilevare. Nonostante il trend di miglioramento e la stagione favorevole c'è chi finisce ancora in rianimazione. Torna a sorridere il centro Abruzzo perché rimane vuota la casella dei nuovi positivi e la nuova settimana comincia sotto i migliori auspici anche se tra domani e dopodomani arriveranno gli essiti dei contatti stretti del 67enne risultato positivo a pacentro sabato scorso. Un fronte che non preoccupa gli addetti ai lavori dal momento che la ricostruzione della filiera dei contatti è ormai chiusa visto che l'uomo vive da solo. Sono 49 sorvegliati dalla ASL, 27 gli attuali positivi così domiciliati, 14 a Prato, la 6 a Sulmona, 3 a Prezza, 2 a Introdacqua, 1 a Bugnare e Pacentro. Di questi solo un 50enne di Introdacqua si trova ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove sta completando il percorso di guarigione clinica con terapia specifica. Il centro Abruzzo quindi si avvia all'azzeramento dei ricoveri, non accadeva dall'8 agosto 2020. Un dato importante da rilevare anche se non può non deve far abbassare la guardia. Quella che invece dovrebbe migliorare ormai a cinque mesi dall'avvio della campagna vaccinale è la gestione delle attese per l'inizio della seduta. Quell'ora e mezza per la preparazione e trasporto dei vaccini comincia a pesare sotto il sole bollente le alte temperature con il rischio di malori per l'utenza in attesa, soprattutto quella più fragile. Basterebbe anticipare i tempi e organizzarsi meglio. Intanto la campagna procede spedita. Sono state 245 le dossi programmate per inoculazioni a Sulmona, 258 a Prato, la 27 a Castel di Sangro. Vanno aggiunti i 73 vaccini somministrati con il team mobile a Pesca a Sero e i 50 a Prezza. Va dato atto quindi che si cerca di raggiungere i piccoli comuni per non perdere il ritmo della vaccinazione che si fa sempre più di prossimità.